Nel caso specifico di Saturno Contro, io e Claudio eravamo in lizza per lo stesso personaggio, un personaggio che ha cambiato completamente la mia carriera, tutto è andato in una direzione per quel personaggio. Fino a una settimana prima dell'inizio delle riprese doveva essere Claudio, Santa Maria, e Fersan chiamava una settimana uno, una settimana altro, perché era confuso, non sapeva dentro di sé. Pochi giorni prima, dall'inizio del film, fece un sogno in cui sognò che Lorenzo doveva essere io. E quindi nel frattempo aveva già confermato Claudio. Quindi chiamò Claudio e gli disse guarda, purtroppo non fai più tu il film, lo farà un altro attore. E quella decisione presa grazie a un sogno ha cambiato completamente il corso della mia carriera. All'epoca mi ricordo che Fersan era seriamente in difficoltà. Poi sul set andò tutto benissimo.